buongiorno a tv di nuovo insieme la nostra rassegna stampa le nostre notizie siamo in contemporanea in diretta sul canale 12 del digitale terrestre app sito social insomma tutte le modalità di fruizione le conoscete meglio di me perché siete caldi attenti sensibili stamattina ci state scrivendo in molti anche per le vostre curiosità ricordo che nella format estivo andiamo in onda dalle 7 fino alle 9 30 questo tutti i giorni dal lunedì al venerdì poi versione short il sabato e la domenica ma comunque sempre naturalmente in diretta piuttosto durante la settimana c'è la riproposizione che conoscete bene anche dopo il telegiornale dell'ora di pranzo quindi 13 30 e 14 30 e poi anche il pomeriggio per seguire le nostre notizie i nostri aggiornamenti ci fa piacere raccontarvi provare a rispondere anche alle vostre curiosità in particolare consultavo durante la pausa un messaggio questo che ci è arrivato buongiorno a tutti sapete dirmi se ancora è in vigore il divieto di balneazione a palombina vecchia grazie si dovrebbe anzi è in questo momento in cui sto parlando alle 7 31 ancora in vigore perché non ho visto comunicazioni differenti ma vi consiglio laddove doveste seguirci più tardi nel corso della giornata quindi in altri orari di fruizione vi ricordo che potete consultare sempre all'interno delle pagine dei due comuni in questo caso coinvolti comune di ancona comune di falconara tutte le notizie diciamo in tempo reale perché vengono emessi degli avvisi basta digitare comune di ancona su un qualsiasi motore di ricerca e poi nella home page vengono trasmessi i vari avvisi i vari alert questo è relativo a quello del 22 luglio quando ha piovuto e quindi il divieto di balneazione in alcuni tratti di costa dove lo potete scorrere ovviamente l'ultimo aggiornamento fa riferimento alle 19 49 del 22 luglio quindi è a tuttora in vigore non essendo arrivata altra comunicazione di rimozione di solito l'iter affinché vengano compiute le analisi dura 48 ore quindi potrebbe volerci anche tutta questa giornata e poi domani di nuovo la balneazione verrà riaperta ma ripeto rimanete aggiornati sia sul sito del comune di ancona altrettanto potete fare su quello di falconara dove la situazione è la medesima comune di falconara.it divieto di balneazione questa è l'ultima news in evidenza quindi è chiaro che ancora non è stato rimosso di solito i comuni quando rimuovono i divieti di balneazione su comunicazione di di viva servizi e di tutti i soggetti preposti ne danno ampia notizia su piattaforme dedicate quindi ad esempio pagine facebook social eccetera per informare ovviamente l'utenza che si può tornare a fare i tuffi tra poco passiamo ovviamente alle vostre alle vostre curiosità e vediamo se se ce ne sono se altre buongiorno oggi ho il giorno libero dal lavoro e vorrei andare al mare avete info sulla situazione di mucillaggine tra sirolo nuvana portonovo buona giornata alessandra alessandra mi sento di dirti che la situazione al momento dovrebbe essere positiva e questo era un trend già riscontrato nella giornata di ieri perché parlavamo di mucillaggine sappiamo che ha creato qualche grattacapo nell'ultimo periodo ma gli esperti stavano analizzando come quella concentrazione di filamenti potesse lasciare intendere che fossimo arrivati ad una fase terminale di quel fenomeno cui abbiamo assistito negli ultimi giorni quindi sono qua in questo momento non posso darti la certezza assoluta che il mare sia pulito ma vedendo quello che è accaduto ieri dove il mare era assolutamente straordinario un po dappertutto oggi la tendenza dovrebbe essere la stessa se siete in zona quindi sirolo numana portonovo mandateci degli scatti così riusciamo ad aiutare la nostra amica alessandra che al giorno libero e che vuole godersi una bella giornata di mare lungo la nostra riviera riviera del conero fatecelo sapere anzi con degli scatti ve lo ve lo chiedo anch'io in modo tale che possiamo viaggiare un po con la fantasia viaggiamo invece adesso sui due quotidiani partiamo a rimbalzo di linea diciamo così dal corriere adriatico i principali titoli che sono presenti oggi in edicola e poi ovviamente ci trasferiremo anche al carlino rimbalziamo di edizione in edizione partiamo da ancona piazza delle muse a settembre deve essere pronta per il g7 la scadenza del comune quindi palazzo del popolo che detta la linea i lavori al via domani corsa contro il tempo per le opere del pnrr che sappiamo essere vincolate ad una scadenza temporale che è dettata ovviamente anche da chi in questo caso comunità europea istituzioni sovraordinate concedono le risorse palaveneto ok mercato delle erbe no quindi palaveneto insomma si va avanti con con gli interventi un pochino più a rilento invece procedono quelli del centralissimo mercato di ancona che in questo ultimo periodo qualche qualche grattacapo lo ha lo ha generato alle attività ma anche alle persone che che risiedono in centro ieri invece nessun grattacapo soltanto una giornata di festa assoluta per i laureati della della politecnica 166 neodottori che hanno festeggiato con una piazza roma gremita e questa foto fa riferimento all'ultimo momento quando la la corona dall'oro viene appunto lanciata in aria e ripresa ma un segnale di libertà che che determina tutta la gioia di aver completato un percorso così arricchente come quello accademico cronaca sparsa dalla provincia l'abbiamo analizzata anche prima la riprendiamo con senigallia vuole il suo cellulare clochiarlo pesta e viene ridotto in fin di vita quindi episodio che si è verificato lungo il fiume misa all'altezza di borgomolino a chiaravalle botte alla fidanzata le rompe un dito è stata salvata dalla sorella mentre ad ancona ieri l'incidente di cui abbiamo parlato prima crolla una trave travolto un operaio è finito in gravi condizioni a torrette vediamo di capirne di più che cosa è accaduto ieri lo facciamo nel prossimo servizio incidente sul lavoro nella tarda mattinata in un cantiere degli archi ad ancona è successo attorno alle 11 tra via mamiani e la rampa che conduce al porto di marina dorica un operaio di 55 anni sarebbe stato centrato da una trave in legno pendente da una gru e che si sarebbe ribaltata durante una manovra schiacciandogli il torace a chiamare i soccorsi sono stati i colleghi di lavoro non appena accortisi di quanto accaduto sul posto sono intervenuti vigili del fuoco polizia automedica del 118 e croce gialla l'uomo che risiede nel bresciano è stato trattato sul posto successivamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso di torrette a seguito dei traumi riportati attualmente si trova in prognosi riservata al vaglio degli investigatori e dell'ispettorato del lavoro la dinamica di quanto accaduto e dunque si si cerca di ricostruire che cosa accaduto ma è chiaro che il tema della sicurezza sul lavoro sui luoghi di lavoro e all'interno dei cantieri assolutamente centrale e bisogna bisogna in genere fare fare di più per la tutela degli operai torniamo alle notizie a dieci anni dall'alluvione quindi parliamo dell'alluvione del 2014 in otto rinviati a giudizio tra gli imputati anche gli ex sindaci Mangialardi e Angeloni mancato allarme nel 2022 archiviazione in vista per sei persone prima analisi il processo del 2014 inizierà a più di dieci anni il gruppo aquilano ha decretato il rinvio a giudizio di otto imputati per inondazione colposa tra loro anche gli ex sindaci Maurizio Mangialardi e Luan Angeloni per l'alluvione del 2022 sei primi cittadini invece vanno verso l'archiviazione direi di approfondire ovviamente questo questo tema possiamo vedere anche nel dettaglio di che cosa si sta parlando 3 maggio del 2014 180 milioni di danni e 4 morti quindi alcune persone che sono ovviamente indagate rinviate a giudizio l'unico reato in piedi rimasto è quello di inondazione colposa e quindi appunto ieri questa notizia del del processo a distanza però di dieci anni mancato allarme invece i sindaci vanno verso l'archiviazione stiamo parlando qua dell'alluvione del 2022 nel mirino della procura insieme ad altri indagati erano finiti Dario Perticaroli Riccardo Pasqualini Letizia Perticaroli rispettivamente ex sindaci di Arcevia Barbara e Serra De Conti oltre a Marco Sebastianelli Federica Fanesi e Carlo Manfredi rieletti primi cittadini di Trecastelli Ostra e Castellione di Suasa la procura dell'Aquila ha formulato la richiesta di archiviazione per l'alluvione del 15 settembre 2022 in relazione ai presunti ritardi nel dare l'allarme chiaramente insomma è arrivata questa richiesta in riferimento a quello che accadde quella notte quando i primi cittadini dovettero fronteggiare una situazione assolutamente inimmaginabile ricordiamo proprio di Riccardo Pasqualini ex sindaco di Barbara quelle parole relative allo tsunami di acqua e fango che travolse tutto e proprio a Barbara spense almeno 4 delle 13 vite che non ci sono più dall'alluvione del settembre 2022. Poi sempre dal Corriere Olimpiadi meno dunque siamo al 24 di luglio meno 2 perché il 26 c'è la cerimonia di inaugurazione e quindi parla Tommaso Marini che è il numero 1 del ranking mondiale del Fioretto campione assoluto marchigiano doc di Ancona in questo caso verso le Olimpiadi sono pronto ora tocca a me forza Tommi è in bocca al lupo per questo inizio di Olimpiade tra l'altro cercheremo anche di fornirvi pian piano quali sono tutte le tappe essenziali e quali sono le gare da segnare in rosso con il calendario magari se avete piacere di seguire i marchigiani allora andiamo al Carlino edizione di Ancona focus centrale dedicato alla Salesi via alle demolizioni obiettivo 2026 si fa spazio al nuovo ospedale materno infantile nella cittadella sanitaria di Torrette ieri le prime ruspe quindi una giornata di fatto storica perché vengono abbattute le palazzine che un tempo ospitavano hanno ospitato anche la camera mortuaria e l'anatomia patologica e adesso invece una volta abbattute saranno terreno dove edificare l'ospedale pediatrico quindi una bella giornata ieri per la città in generale per la regione perché ci troviamo all'interno del polo dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche quindi l'ospedale di tutta la regione a servizio di tutta la regione così come lo è ovviamente il Salesi eccellenza assoluta del nostro territorio le parole di Gozzini il DG che ha detto adesso o meglio tra pochi anni saranno veramente gli ospedali riuniti come si chiamava un tempo l'azienda ed ora invece una notizia che arriva dalla città alluvione tutti sotto processo 2014 insomma siamo a Senigallia l'abbiamo detto l'abbiamo visto anche nel dettaglio dal Corriere Adriatico dicevo invece notizia dalla città di Ancona la pinacoteca diventa un thriller lavoratori assunti via messaggio per poter inaugurare la mostra erano stati licenziati pensate contattati invece da un'agenzia in extremis per cercare appunto di reperire del personale che potesse dar manforte durante le giornate di apertura colpito alla testa ed al torace da travi cadute da una gru è gravissimo un uomo è caduto agli archi di Ancona l'abbiamo visto anche prima nel servizio e poi invece si torna a parlare della bomba d'acqua ad Osimo Stazione che è devastata e le persone si lamentano dicono non possiamo assolutamente continuare così bisogna trovare una soluzione poi una notizia che invece riguarda l'Ancona l'SSC Ancona oggi ma questa è tutta legata all'US ancora quindi alla società precedente perché dopo quattro mesi di silenzi hanno parlato anche i calciatori che hanno inviato una lettera e l'hanno pubblicata tramite l'AIC che è l'associazione appunto di riferimento per i giocatori mai stati pagati hanno tradito noi giocatori è un'intera città quindi parole forti padri di famiglia amavamo quella maglia hanno detto gli ex calciatori biancorossi vi porto ora all'edizione di Ascoli e San Benedetto Corriere Adriatico partiamo da qui corsa agli alloggi popolari ad Ascoli già stilata una nuova graduatoria sono 327 le famiglie in attesa calano però le richieste rispetto al 2020 già pronte intanto 140 abitazioni quindi queste le spiegazioni da parte del comune in riferimento ovviamente alla situazione degli alloggi con le persone che cercano una soluzione abitativa differente. Poi notizia purtroppo tragica dalle strade a Monsampolo feriti altri due giovani ma soprattutto dopo un frontale tra auto è morto un uomo di 38 anni quindi capite che è un'emergenza continua sulle strade bisogna prestare assolutamente moltissima attenzione perché continuiamo a raccontarvi ogni giorno di tragedie soprattutto in questo mese di luglio credo di aver perso il conto ma dovremmo essere arrivati davvero ad un numero consistente considerevole purtroppo di persone che hanno perso la vita la vita su strada e qui un altro episodio che possiamo analizzare a pagina 13 del Corriere Adriatico siamo a Monsampolo del Tronto un frontale assolutamente senza scampo per un magazziniere Lekbir abitava vicino all'altro conducente lo schianto è avvenuto nella notte. Andiamo avanti sempre Corriere Adriatico notizie che arrivano dalla provincia in questo caso da San Benedetto del Tronto perché si sta creando qualche tensione in merito ad uno spettacolo di burlesque di fronte sostanzialmente all'Abbazia il prete Don Dino è assolutamente contrariato da questo non ci sta ma Verusca sventisce eravamo al Torrione quindi notizia che ha determinato qualche momento di tensione in città. Passiamo all'edizione che nel Carlino è accorpata tra Ascoli e Fermo partiamo dal titolo principale con cui apre il Carlino dedicato alla crisi idrica i serbatoi restano chiusi dalle 22 alle 6 ma le attività si sono organizzate abbiamo autoclave per le emergenze quindi serbatoi che possono fungere possono fungere ovviamente alla peggio da come dire depositi per recuperare acqua in quanto ovviamente nell'orario notturno in quella fascia l'acqua non c'è e non può essere assolutamente utilizzata. Passiamo al taglio centrale a Benedetta Rossi la popolare foodblogger a Fermana da milioni di follower e visualizzazioni che è stata acquisita dal gruppo Mondadori se ne parla moltissimo questi giorni sicuramente l'avrete letta la notizia anche per cifre milionarie lei dice agli amici marchigiani rimarrò una di voi. Notizie di cronaca a pedaso falsi addetti IMS raggirano anziano denunciati dai carabinieri a proposito di truffa agli anziani che vi facevo vedere prima purtroppo sempre più in aumento quindi attenzione totale e mai prestare il fianco a persone che non si conoscono i carabinieri le forze di polizia agiscono soltanto per canali ufficiali quindi pay attention in questa estate calda ma calda anche per le truffe. A Porto d'Ascoli il sottopasso di via mare la protesta ora sistematelo un grido un grido d'allarme piuttosto chiaro da parte di persone e fruitori. Chiudiamo con Servigliano che si tuffa nel passato per un torneo cavalleresco è tutto pronto per la 56esima edizione di Castel Clementino ci sono parecchie novità che vengono illustrate oggi all'interno del Carlino. Passiamo all'edizione di Fermo in questo caso Corriere Adriatico. Prima abbiamo raccontato una storia straordinaria quella di una super mamma si tratta di Sara Cinquini che da Caponord alla Spagna in bicicletta ha viaggiato per 29 giorni e lo ha fatto per dare anche un segnale che tutte possono farcela e quindi una bellissima storia ha attraversato ovviamente temperature differenti tanti paesi perché siamo partiti dall'estremo nord siamo arrivati a sfiorare l'Africa raccontato dagli zero gradi fino ai 50 e poi è tornata a casa la prima cosa che ha fatto una bella carbonara per rinsavire, per recuperare le energie. Sempre dalla città invece nuovo ascensore in arrivo via libera al progetto esecutivo per il collegamento da via Mazzini al Girfalco il comune ha avuto un finanziamento da 1.3 milioni di euro Calcinaro dice avanti tutta. Avanti tutta anche sulla pedemontana infrastruttura assolutamente strategica per i territori in cinque anni verrà realizzata e è stato già stanziato mezzo miliardo ne ha parlato a riguardo anche il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli in riferimento appunto a tempi e risorse messe a disposizione Scendiamo sotto, si torna alla città di Fermo perché sapete che c'era stato un colpo che aveva fatto molto discutere in merito a calzature rubate all'interno di un'azienda e la polizia ha fatto un'indagine assolutamente lampo perché tutte le scarpe che erano state portate via sono state recuperate all'indomani all'interno di un camion a Gorizia quindi la titolare ha ringraziato, titolare dell'azienda maliziosa sono felice e così ha potuto riavere indietro quello che le era stato portato via nella notte dalla banda del buco Finti impiegati dell'Inps scattano le denunce altra truffa ricorrente si spacciano per tecnici di aziende senza ovviamente alcun tipo di qualifica ma soltanto con l'inganno e poi riescono a raggirare le povere e ignare vittime mi verrebbe da dire in questo caso ma ci sono le forze dell'ordine che in questo caso sono intervenute in maniera puntualissima e li hanno denunciati Passiamo all'edizione di Macerata resto sul Corriere Adriatico da tutta Italia per l'UniMC cresce la PIL per l'Università di Macerata in 500 al primo Open Day c'eravamo anche noi più tardi vi mostro il servizio matricole da nord a sud parla il Rettore John McCurt sconti e agevolazioni con la Student Card quindi un servizio all'interno di una tessera per tante persone poi proteste in provincia Gentilucci finisce nel mirino perché c'è stato un sit-in per l'acqua pubblica insomma argomenti che continuano a scaldare perché il tema dell'acqua è essenziale e al momento non sono state individuate strade se non quelle del risparmio totale e quindi la notte i rubinetti chiusi motivo per il quale poi in provincia si protesta A Civitanova, a case di comunità sono stati appaltati alcuni dei lavori un'opera per 3,8 milioni di euro a Porto Recanati il sindaco Michelini che era finito nel mirino in merito alla situazione della sicurezza e della movida perché ci sono stati tanti episodi di cronaca nel corso dell'ultimo periodo lui si difende e dice la tensione è alta dunque per quanto riguarda il CAS ai terremotati una svolta da settembre cambia la gestione quindi le novità che sono spiegate oggi all'interno del Corriere Adriatico ci arriviamo subito per andare a capire che cosa succederà ovvero il contributo di autonoma sistemazione la gestione passa in mano al commissario straordinario Castelli ed è un incentivo per ricostruire il suo intervento pubblicato oggi sul Corriere Adriatico cronaca andiamo all'assalto che c'è stato nella notte l'abrico io a Civitanova Marche in questo caso i malviventi hanno tentato di sfondare un muro colpo sfumato grazie all'arrivo dei carabinieri poi malviventi che si sono dati alla fuga all'interno di alcuni campi quindi hanno cercato appunto di fuggire così e ci sarebbero riusciti qualche news anche dal Carlino edizione sempre di Macerata poi passiamo a Pesaro e ci salutiamo temporaneamente ma dalle 8 torniamo anche con altri approfondimenti e alcuni messaggi che sono rimasti in sospeso l'acqua resterà in mani pubbliche stallo sul nuovo gestore la rassicurazione di Parcaroli ai promotori del presidio in provincia in questo caso abbiamo visto che insomma momenti di tensione seppure dentro certi confini ci sono stati dalla provincia una news che arriva da Corridonia terza corsia chiusa la fase 1 cantiere avanti fino a settembre e poi un po' di cronaca con Potenza Picene il mio cane sbranato dai lupi servono azioni di contenimento quindi non solo selvatici non solo cinghiali ma anche lupi che si avvicinano alle case a macerata molesti e sul lavoro un protocollo per aiutare le donne dunque da Porto Recanati sorprende il ladro d'auto e viene preso a pugni incredibile incredibile ma vero scendiamo a Corridonia con il giornale scendiamo ovviamente in taglio basso la versione di Ricci guardia medica chiusa da qualche tempo con l'appello appunto di Ricci che dice mancano i dottori motivo per il quale è stato necessario appunto determinare la chiusura di questo presidio che invece assicurava sicurezza in più alle persone a Fiastra e Sibillini in bottiglia la sfida di tre amici una bella storia che arriva dal nostro entroterra devo passare ai titoli di Pesaro lo facciamo subito partendo dal Corriere Adriatico a proposito di sanità emergenza 118 senza medici last 1 valuta il ricorso urgente a personale esterno e dirigente premiate chi è in servizio l'agenzia offre 20.000 euro per 20 turni con alloggio in località di mare anche per i familiari quindi notizie che appunto riguardano la presenza di presidi sanitari all'interno delle nostre spiagge o in località frequentate soprattutto d'estate poi basta con il club nautico chiuso un appello del sindaco che arriva direttamente all'autorità portuale vi voglio mostrare anche qualche titolo prima di fermarci e di salutarci temporaneamente ovviamente Carlino edizione di Pesaro in particolare il saluto in taglio centrale che arriva al papà scomparso atleta degli angels nel 2023 presto un memorial ciao Ricchi se ancora con noi taglio principale che invece è dedicato agli incarichi mana da 400.000 euro il Carlino scopre due affidamenti a opera maestra per Sonoteca Young Art Festival così il conto sale battaglia il Carlino che è portato avanti da alcuni giorni potete approfondire all'interno mi fermo un attimo a poca pausa poi ancora insieme a Grazie a tutti.